Buongiorno a tutti, ben ritrovati a questo appuntamento che ci porta alla conoscenza di direttori di Corri di Luci Bianche italiani. Oggi abbiamo il piacere di ospitare il maestro Salvatore Murru di Napoli. Buongiorno Salvatore, grazie per essere qui con noi oggi. Allora, una breve presentazione del maestro Murru che abita a Napoli. È pianista, compositore, unisce direi in modo molto fruttuoso la sua attività di compositore con quella di direttore di coro. Vincitore di svariati veramente molti premi per le sue composizioni e brani scritti per la scuola, per cori di voci bianche in generale. È docente di scuola primaria e si occupa in modo importante di portare la propria competenza musicale all'interno dell'ambito scolastico. È direttore del coro di voci bianche Le voci del 48 di Napoli. Maestro Murru, allora io partirei proprio da questa esperienza sul campo e diretta nella scuola. Ecco, raccontaci un po' la tua esperienza di musicista, docente, direttore di coro immerso proprio in questo tessuto scolastico. Che cosa ha stimolato questa situazione e che scelte, quali azioni hai compiuto dal punto di vista didattico e musicale? Ciao Elisa, intanto grazie per l'opportunità di raccontare un po' la mia esperienza, la mia formazione e soprattutto diciamo le scelte che mi hanno poi condotto gradualmente alla direzione di organici corali, di voci bianche e attualmente anche organico giovanile e mi pare opportuno proprio partire dal discorso della mia personale formazione come docente di scuola primaria, come si diceva una volta maestro di scuola elementare e parallelamente mi sono formato come pianista prima, poi come compositore. Diciamo che questi aspetti sono legati tutti e tre in qualche modo al mio vissuto e mi hanno gradualmente poi portato in maniera naturale all'esperienza di direzione di coro perché ho intuito subito l'importanza che sono un po' anche come docenti di scuola elementare, l'importanza che la musica ed in particolare il canto abbiano nel vissuto di un bambino e il canto, la voce è il primo strumento insomma si dice, quello più connaturato al bambino che impara ad utilizzarlo insomma dalla nascita. È chiaro che intervenire su quegli aspetti vuol dire sviluppare la musicalità insita in ciascun bambino e se insomma diciamo l'approccio didattico, questo ho intuito abbastanza velocemente, se l'approccio didattico, se la metodologia sono efficaci, il bambino inizialmente si diverte sicuramente con delle belle proposte diciamo didattiche, però poi chiaramente comprende anche l'importanza di questa esperienza e quindi si vira verso una maggiore, un impegno diciamo più serio verso come dire una formazione più adeguata e quindi diciamo un po' alla volta si comprende che al di là degli aspetti ludici o divertenti legati alla vocalità infantile poi c'è anche un impegno che può portare, è vero a volte anche in maniera faticosa però la costruzione di un sapere, un saper fare che necessariamente deve giovarsi di tempi di attenzione più lunghi, di un'attenzione diciamo più efficace. Tornando a me personalmente, diciamo io circa 25 anni fa ho cominciato a lavorare nella scuola primaria e questa mia prima esperienza diciamo come alla luce di quanto dicevo anche prima mi ha portato subito ad intuire l'importanza che potesse avere il canto per i bambini quindi diciamo che il mio ruolo di direttore di coro è stata come dire una conseguenza anche un po' naturale del mio percorso. Ricordo all'epoca, tra l'altro non ero neanche a Napoli come inicitore di concorso insegnavo fuori e preparai come fanno un po' tutti i maestri e le maestre per il saggio di fine anno, i ragazzi della classe su alcuni brani cantati ecco quello è stato un momento importante perché lì ho capito, ho imparato, ho appreso quanto gli aspetti emotivi, quando il mondo infantile, quanto la musica fossero strettamente legati tra loro. Quindi diciamo che da quel momento in poi ho sempre in qualche modo fatto in modo che la musica fosse un po' protagonista diciamo anche rispetto alla mia funzione di docente e diciamo che da allora ho cercato sempre quindi spazio da questo punto di vista per inserire lo sviluppo della vocalità infantile. Ricordo che circa una quindicina di anni fa mi sono dedicato in maniera più seria a questo aspetto quando anche a causa del fatto che nella mia scuola ci fosse una dirigente che c'è ancora tra l'altro attualmente molto aperta quelle che sono le opportunità formative che può dare il linguaggio espressivo in questo modo in particolare il canto. Ecco da allora è cominciata un'esperienza più seria e sistematica in quella circostanza cominciai a lavorare sulle mie classi, su quelle nelle quali insegnavo e stesi poi l'attività all'intera interclasse, quindi tutte le classi diciamo terze o quarte adesso non ricordo dov'ero e man mano poi l'attività si ampliò a tutta diciamo all'intera scuola. Ecco questa cosa è stata molto bella perché poi mi ha dato anche la possibilità di capire che nell'intera scuola c'erano tanti bambini che avevano voglia di fare, avevano attitudini al canto ma avevano anche piacere di crescere da questo punto di vista. Ecco quello diciamo ha sancito un po' l'inizio della mia esperienza in maniera appunto più sistematica e sterea come direttore di coro, questo mi ha portato molto nel corso del tempo anche un po' a specializzarmi su questa cosa, a leggere tanto, a capire gli approcci diciamo didattici migliori, quali metodologie oppure anche quali aspetti diciamo della tecnica vocale potevano come dire in qualche modo andare a colmare questo bisogno che i bambini avevano di crescere, di imparare a cantare. Ecco quindi diciamo che da quel momento in poi poi diciamo ho avuto la possibilità di lavorare per anni con questi ragazzi, abbiamo fatto un'esperienza molto significativa anche con una serie di soddisfazioni come dicevi tu, di premi ma non sono tanti i premi o le occasioni ufficiali diciamo che hanno sancito come dire il successo dell'operazione, piuttosto il piacere, il piacere puro del canto che è quell'occasione di vedersi una volta, due volte a settimana per imparare, per esplorare, per costruire assieme ecco quello è stato qualche cosa che poi, ripeto, secondo me ha sancito come dire il successo dell'operazione. Maestro Murru, abbiamo appunto detto che sei anche il compositore, oltre che direttore e pianista questo ti avrà certamente permesso di mettere a fuoco alcuni aspetti inerenti alle caratteristiche del repertorio destinato a Corri di Voci Bianche, ecco quali sono, qual è il frutto di questa tua doppia veste? Sì, allora faccio una premessa che penso di poter condividere con tanti altri colleghi diciamo che il mondo scolastico, in particolare il segmento della scuola primaria per anni diciamo purtroppo è stato anche un po' vessato da repertori che erano assolutamente inadeguati inadeguati per estensione vocale perché non adatti alla vocalità infantile per testitura vocale, inadeguati anche per l'aspetto diciamo educativo perché magari i testi non erano come dire direttamente diciamo funzionali a quella che è la vocalità ma anche l'esperienza di un bambino. Quindi io penso che la scelta del repertorio poi alla fine sia un po' alla base di tutto, cioè fare appassionare il bambino al canto e al canto corale vuol dire proporre, fare delle proposte che possano essere veramente interessanti fattibili ed interessanti. Quindi diciamo che questo mi ha spinto gradualmente in due direzioni da un lato sicuramente ad arricchire il repertorio di questi ragazzi con delle proposte bellissime che tanti colleghi italiani, compositori fanno e che naturalmente sono effettivamente adeguati sia per aspetti musicali ma anche per il significato all'esperienza e all'avviso del bambino. Dall'altro lato in qualche modo come accennavi tu anche la mia diciamo esperienza di compositore mi ha portato ovviamente a fare delle scelte, a sperimentare, a provare insomma anche in definitiva anche questo passaggio è stato abbastanza naturale come quello di direttore di coro. Insomma voglio dire la composizione di brani basati ad esempio su testi semplici, su filastrocche per bambini, musicate per questo, per quella circostanza poi man mano che crescevano perché ecco appunto bello insomma diciamo della nostra diciamo esperienza di direttore di coro e voci bianca è questa cosa che poi i bambini crescono diventano giovani quindi magari può diventare anche più variegata, più complessa il linguaggio ricordo ad esempio che durante gli anni adolescenziali di questi ragazzi qualcuno gioinetto insomma mi capitò di musicare delle odi di Orazio questa è stata un'esperienza molto bella perché poi si rifà anche un po' al mio vissuto da studente io ricordo che al liceo insomma per un periodo mi innamorai di Orazio, delle odi di Orazio del significato sottisso insomma e quindi questo è stato un modo sia anche per insegnare ma anche per condividere dei contenuti, quindi la scrittura per un coro ovviamente da parte mia è bello perché tu un po' fai insomma cuci il vestito addosso alla persona quindi insomma io conosco la vocalità di tutti i ragazzi, delle loro possibilità ma anche rispetto ai contenuti quindi ecco questo mi ha permesso di innescare diciamo anche un po' questo processo che è quello della composizione e i bravi sono anche un po' piaciuti, alcuni sono stati premiati ma ripeto anche in questo caso ritengo che la cosa veramente bella, piacevole sia stato l'arricchimento l'arricchimento reciproco, ci tengo anche a chiarire questo aspetto che questa cosa ha dato ad entrambi, cioè da un lato e ai ragazzi dall'altro d'altra parte il tessuto diciamo sociale nel quale insomma io mi muovo della mia scuola è un tessuto con dinamiche abbastanza complesse sono una scuola alla periferia di Napoli dove c'è tanta voglia da parte di tanti ragazzi di far bene aspettano come dire le occasioni giuste ecco io credo che parte del successo di questa esperienza sia anche legato all'aver cercato di dare una proposta valida dal punto di vista didattico a questi ragazzi che in qualche modo sono rimasti tutti quanti legati all'esperienza perché è vero che chiaramente nel corso del tempo le voci non sono più bianche che diventano voci giovanili quindi è chiaro che c'è un alternarsi io penso credo che sia sì la quarta la quarta tornata quest'anno parte con cori di voci bianche ne ho portati avanti abbastanza e la cosa bella è che diciamo non è che quelle là si esoriscono finiscono ma in qualche modo vengono vengono riassorbite nell'organico giovanile ti dicevo all'inizio che mi occupo anche di un coro giovanile è bello per me il fatto che insomma lasciata la scuola elementare questi ragazzi non si sono voluti di saccare dall'esperienza e così non hanno lasciato nemmeno dopo la scuola media non hanno lasciato nemmeno dopo le superiori adesso ho ragazzi e ragazze che frequentano l'università e che trovano comunque nel canto come dire quello sfogo naturale quel momento anche da dedicare a se stessi faccio faccio anche dico anche che alcuni per alcuni di loro è stata orientativa l'esperienza alcuni ragazzi miei allievi adesso sono in conservatorio a direzione di coro chi insomma canta fa musica jazz quindi voglio dire alla fine anche dal punto di vista dell'orientamento penso che questa sia stata un'esperienza importante e un ultimo aspetto che voglio sottolineare è il valore umano oltre che musicale che l'esperienza corale può dare questo lo sappiamo tutti quanti un po' come direttore di coro con i bambini e i ragazzi in seguito naturalmente ma anche con dei colleghi insomma il caro Massimo amico fraterno che è un pianista valente che insomma continua ecco generosamente a seguirci con il pianoforte la mia collega Anna che è un insegnante di scuola primaria ma come dire che nel corso del tempo un po' si è specializzata e soprattutto cura le relazioni tra i ragazzi diciamo si crea un team, si crea una squadra dove tutto funziona in maniera piacevole e valida ripeto se alla base poi c'è la volontà ecco diciamo di costruire qualche cosa tutti quanti insieme ecco quindi questa ripeto è stata per me un'esperienza importante sul piano musicale senza altro ma anche per altri aspetti appunto come sul piano umano ecco diciamo Maestro Murru prima abbiamo fatto cenno al gruppo corale di voci bianche che segui ovvero il coro le voci del 48 di Napoli puoi raccontarci qualcosa di questo gruppo e anche di altri gruppi che sicuramente tu segui in modo sistematico? Sì, le voci del 48 innanzitutto il nome perché le voci del 48 ma per una ragione molto semplice perché il mio attuale istituto comprensivo una volta era il 48esimo circolo didattico di Napoli dunque le voci del 48 che ha forse in sé anche come dire un nome un po' evocativo di questo fermento diciamo dei ragazzi ecco quel gruppo iniziale a cui ho fatto riferimento all'inizio dell'intervista è oramai un gruppo giovanile che continua a mantenere chiaramente quel nome lì ma come ti ho specificato dopo ovviamente le voci si trasformano quindi nel corso del tempo c'è stata la formazione di nuovi organici e attualmente mi occupo del coro giovanile appunto ma anche del coro a voci bianche sempre così chiamato le voci del 48 questo sempre all'interno della scuola nella quale insegno e dove ho avuto tra l'altro anche dicevo all'inizio la fortuna di avere avuto una dirigente diciamo aperta a questo tipo di iniziative per cui parte del mio orario in qualche modo è dedicato in maniera specifica proprio alla formazione dei ragazzi per quanto riguarda la coralità un'altra esperienza importante della mia vita è stata sicuramente anche quella di poter lavorare come ancora attualmente per la fondazione Pietà dei Turchini di Napoli il centro di musica antica che si occupa sicuramente appunto come dice lo stesso nome della musica antica del basso ed importantissimo repertorio della Napoli del del setecento soprattutto del settecento ma ma che ha diciamo tra i vari tra le varie proposte anche delle diciamo gli aspetti legati alla formazione quindi questo mi ha consentito di lavorare con un gruppo di piccoli cantori il coro di voci bianche di San Rocco Cacchiaia costituito da un piccolo organico al momento diciamo un po' fermo un po' a causa della pandemia anche di altre situazioni ma che diciamo ripartirà sicuramente più presto ecco diciamo che questa esperienza poi mi ha consentito anche di lavorare in maniera specifica con i ragazzi sia le voci del 48 sia il coro di voci bianche di San Rocco Cacchiaia per esempio sulla musica su alcuni autori come Gaetano Greco autore del insomma dell'autore barocco diciamo della musica a Napoli e che si occupava a sua volta oltre che come compositore come idatta proprio dei bambini quindi insomma come dire in qualche modo le esperienze si sono sovrapposte è stato veramente molto bello tutto questo e chiaramente questi diciamo questi vari organici corali mi hanno dato anche la possibilità di lavorare in maniera abbastanza variegata rispetto a quelle che potevano essere le difficoltà di ciascun gruppo gli aspetti positivi valorizzare questi aspetti ecco ti torno a ripetere l'esperienza umana legata a tutto questo penso che sia stato poi quello uno nella vita poi io insomma ero molto indeciso se fare il pianista insomma se dedicarmi alla scrittura oppure se dedicarmi alla direzione corale poi uno nella vita un po' fa delle scelte insomma ovviamente per motivi di tempo soprattutto ma uno può tentare di fare anche diverse cose assieme ecco diciamo che l'esperienza di direttore di coro mi ha dato tanto sicuramente mi ha offerto la possibilità di lavorare sul piano musicale su qualche cosa che mi coinvolgeva tanto e anche come ti ho detto sul piano proprio dei rapporti interpersonali ho conosciuto e lavorato anche strettamente con compositori amici quest'anno abbiamo fatto abbiamo messo in scena una prima di Piero Carabba un'opera lavoro anche con altri cari e bravissimi colleghi come Tullio Ovisioli insomma voglio dire l'esperienza da questo punto di vista ritengo che sia stata veramente importante perché mi ha portato a conoscere e a relazionarmi con tante altre persone e quindi insomma viva la musica corale insomma beh grazie maestro per aver sottolineato anche come questa professionalità attraverso il coro sia unita a tanta umanità ecco l'aspetto umano come sia così importante e pregnante in un percorso come quello che ci hai descritto beh direi che sarà un piacere adesso ascoltare un'esecuzione del tuo gruppo del tuo coro di Voci Bianche ci vuoi anticipare cosa hai scelto e cosa ascolteremo? sì mi sono basato su due brani abbastanza brevi così c'è la possibilità di ascoltarne due insieme e che però sono molto distanti l'uno dall'altro come insomma come approccio e ascolteremo un brano che si è svolto in un contesto molto particolare che è stata la giornata della memoria di qualche anno fa in cui il coro faceva da supporto armonico generalmente succede il contrario succede che c'è lo strumento che insomma supporta armonicamente le voci e il coro ci canta in questo caso è successo un po' il contrario mi è piaciuto insomma adattare questo brano facendo in modo che una chitarra accompagnasse con le note del celebre brano insomma colonna sonora anche del film in cui i bambini e i ragazzi appunto come dicevo supportano armonicamente la chitarra e ho scelto questo perché perché ecco quella è stata un'occasione di riflessione importante abbiamo parlato di umanità abbiamo parlato di tanti aspetti legati sicuramente all'importanza dell'esperienza che il coro può dare anche e non solo sul piano musicale il secondo brano invece è un'antica villanella di Orlando di Lasso ho scelto questo brano per due ragioni intanto perché Orlando di Lasso che è stato uno dei maggiori diciamo contrappuntisti del Cinquecento uno dei polifonisti più importanti nella sua esperienza è stato a Napoli per diversi anni per tre anni se non sbaglio e proprio qui imparando e apprendendo diciamo alcune cose basandosi sulla musica popolare ha elaborato diverse villanelle nel suo libro Moresche, Villanelle e quant'altro c'è questo brano che si chiama Saccio una cosa che rappresenta anche per i ragazzi un punto diciamo un po' di arrivo perché diciamo è sicuramente un brano che non offre tantissime difficoltà ma che comunque presuppone una buona conoscenza della tecnica vocale e quindi mi è piaciuto inserire questo brano che racconta in qualche modo anche come il percorso diciamo formativo di questi ragazzi e come è piaciuto molto loro tra l'altro il testo è un po' in lingua napoletana quindi come dire un linguaggio anche del Cinquecento ma se vogliamo familiare quindi l'hanno compreso perfettamente quindi mi è piaciuto inserire anche questo brano qui Benissimo, allora direi che è giunto il momento proprio di ascoltare queste speciali esecuzioni e quindi maestro Murru io ti ringrazio veramente tanto a nome di Anci a titolo personale anche per questa tua disponibilità è stato un piacere conoscere un po' più a fondo un po' più nel dettaglio la tua esperienza e la preziosità del tuo percorso un saluto e grazie ancora maestro grazie a voi, grazie, ciao Elisa grazie a tutti 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 grazie a tutti